Un commento a caldo sull'intervento della Meloni, anche su quanto ha detto la nuova Presidente sulle donne. Intanto mi scuso per la caramella in bocca. Devo dire che è stato un intervento molto importante, molto empatico anche da un certo punto di vista. E quando ha parlato delle donne siamo saltate tutte in piedi, perché ovviamente lei si è rifatta addirittura alle rovine del nostro risorgimento. Lei ha detto che se io sono qui lo devo anche a loro. Ecco, questo non era mai stato detto. Devo dire che ho guardato i banchi della sinistra e gli uomini erano diseguiti, non si è muozzo nessuno. Tre, quattro deputate e invece andava dato un bel segnale, perché allora ho ragione io che poi la solidarietà femminile non esiste, e invece la Meloni oggi ha parlato in modo molto chiaro e c'era ad alzarsi in piedi come abbiamo fatto noi applaudire. I passaggi della Meloni sono stati bellissimi anche sulla mafia, sulla criminalità organizzata, sull'istruzione, sui diritti civili, gli asfaltati tutti.